Il corso di recitazione è professionalizzante, ha la durata di sei mesi e sarà svolto a weekend alterni con degli intensivi. È destinato non solo a degli attori che hanno già una loro carriera avviata, è destinato anche a chi ancora non ha esperienza e ha semplicemente la passione, vuole acquisire le basi per poter lavorare nel mondo dello spettacolo, oppure alla necessità di acquisire gli strumenti e la sicurezza per parlare davanti ad un pubblico. I moduli sono drammaturgia, teatro di improvvisazione, dizione e lettura espressiva, espressione del corpo, come affrontare un casting, un'audizione ed SF Tape. Le lezioni sono tenute da docenti di alto profilo professionale nell'ambito del cinema e del teatro. Grazie a tutti! Grazie a tutti!